dentro questa bara c'è il nostro affetto, l'affetto dell'ampia nazionale, dell'SVS, del PT e di tutti coloro che ti hanno conosciuto e che se tu potessi vederli hanno tutti gli occhi pelati da un dolore vero, questo dolore vero è anche accompagnato da una certezza che tu lasci un ricordo importante e perché vicino a me c'è il sindaco della tua amata città, io lo prego di cuore di fare in modo che si possa intitolare un'importante strada o un'importante città. Lo merita, lo merita sicuramente perché non è stato un uomo qualunque, è stato un uomo che ha dato un esempio di vita esemplare a tutti.